Ciao a tutti da Mario Santagati, siamo qui per vedere delle partite del PogChamps Oggi andiamo a vedere il match tra Lucy Lane e PowerTV Vediamo Lucy Lane e PowerTV come vedete qui in basso nella schermata a sinistra Andiamo a vedere quindi le partite, la prima partita Lucy Lane col bianco, PowerTV il nero Vediamo come hanno giocato E4 per Lucy Lane, C5 per PowerTV, difesa siciliana Qui gioca F3, ora questa non è una mossa molto buona perché toglie la casa Che solitamente è naturale per lo sviluppo del cavallo che si trova in G1, ossia la casa F3 Vediamo un po' come è andata E il nero qui fa un'altra mossa diciamo poco naturale questa spinta in G5 Come vedete il nero ha spinto C5 e G5 Ora solitamente questa spinta non è molto buona Ora bisogna stare attenti perché il nero sta aprendo un po' il suo lato Direi, vediamo ora cosa faranno, alfiere in C4, donna B6 e qui il cavallo che va in H3 Ora non è una buona casa per diciamo per piazzare il cavallo sarebbe stato meglio sicuramente in E2 Allora vediamo adesso Qui il nero fianchetta all'alfiere E qui c'è un pedone, un pedone che vedo, vedo un pedone in presa Vediamo come è andata C'è un pedone in presa però bisogna fare attenzione Bisogna fare anche attenzione perché comunque c'è un Doppio attacco su questo punto Quindi sostanzialmente bisogna fare attenzione Quindi magari prima giocare un cavallo in C3 Poi se il nero non fa nulla Si può anche prendere il pedone Però prima bisogna stare attenti E invece invece Il bianco si arrocca Il nero gioca alfiere in D4 Scacco Ora sostanzialmente a questo punto il bianco Potrebbe piazzare sto cavallo che non fa niente qua In F2 difendere diciamo lo scacco a re Sarebbe diciamo la mossa più naturale E invece il bianco Il bianco diciamo ha qualche problema con il valore dei pezzi Perché vi ricordo che una torre solitamente vale 5 Un alfiere vale 3 Quindi se la matematica non è un'opinione Se vai a interpore la torre per lo scacco Nei confronti di un alfiere Sostanzialmente stai andando a perdere la qualità Vediamo come ha giocato il nero E il nero invece Invece non cattura la torre Non cattura la torre Gioca donna in B4 Diciamo con l'idea sostanzialmente di attaccare l'alfiere in C4 Vediamo come è andata Ecco a questo punto il bianco Cattura un pedone Proprio quando Proprio quando non doveva farlo Perché semplicemente c'ha Questo povero alfiere campo chiaro Che è sotto attacco Ed è un bersaglio della donna avversaria Il nero giustamente cattura l'alfiere A questo punto il bianco sviluppa il suo cavallo in A3 Con l'idea sostanzialmente di attaccare la donna Qui il bianco cosa doveva fare? Cosa doveva fare? Qui il bianco sta molto male Deve più che altro cercare di compattarsi Qui magari forse può provare Provare a giocare questa magari C'è alfiere per F2 Re per F2 Donna in D4 Poi Re in H1 sempre Non so Magari fare qualcosa Vediamo e vediamo Quindi il bianco gioca a quest Sì che comunque è una mossa Poi il nero sposta la donna In A6 Vediamo il bianco Il bianco Fattore B1 Addirittura G4 Qui amici il bianco Il bianco doveva ovviamente andare a giocare B4 Perché? Perché sostanzialmente questo cavallo Dopo questa spinta non ha più case E lui invece spinge un pedone in E5 Il nero continua invece a spingere i pedoni sul lato di donna Ora gioca D3 E il nero cambia Anziché catturare il cavallo che vi ricordo era da un po' in presa Cambia con C per D Vediamo il bianco cosa fa Gioca C per D A questo punto il nero Ben pensa di cambiare la torre Cioè quindi alfiere per F2 Scacco Cattura D3 E poi finalmente Finalmente cattura il cavallo In A3 Beh qui la posizione del bianco Diciamo che è Pessima Non solo per lo svantaggio che c'ha Nel materiale Ma anche perché poi c'è Re Che è Un po' Un po' diciamo allo scoperto Ora provo a sviluppare l'alfiere Cavallo in C6 Cavallo E4 E ovviamente Cavallo prende un altro pedone Il nero Donna in D2 Nero giocatore in B8 Sostanzialmente per fare pressione Sulla colonna B C'è anche questo pedone qua La torre per il momento Non ha difensori Quindi bisogna stare attenti E ovvio che anche l'altra torre Non ha difensori Quindi bisogna stare attenti Alfiere Alfiere in C5 Probabilmente Non lo so Forse Semplicemente per attaccare Il pedone Torre in B5 E poi l'alfiere che Va in D4 Vediamo come prosegue Torre in D5 Sostanzialmente attaccando L'alfiere E qui E qui E qui Il bianco Il bianco Diciamo O non vede O si disinteressa Si disinteressa Perché non lo ama abbastanza Del suo alfiere Campo Scuro E invece il nero Il nero Lo cattura E qui un errore Un errore Un altro errore Un altro errore Perché il bianco Non si avvede Non si avvede Perché sostanzialmente Questo alfiere L'alfiere in C8 Non era Abbandonato a se stesso Ma era Ben difeso Dalla propria donna In A6 E quindi Non avvedendosi Di questo Cambiatore per alfiere Perdendo Ulteriore Materiale Adesso la posizione Davvero è Strapersa Vediamo come Con Vediamo come Come si concluderà Il match Se il nero Riuscirà a portare A casa Questo match Che ha Diciamo Dove è In grande vantaggio Bianco Tenta Diciamo Di spingere Qualche pedone Sul lato Di re Il nero Semplicemente Cattura in D3 Con scacco Col suo cavallo Il re del Bianco Si porta in G3 Vediamo adesso Cosa Giocherà il nero Giocherà il nero Il nero poteva Giocare subito Questa presa E minacciare Di andare A promozione Invece Non lo fa Gioca una mossa Di donna Il bianco Diciamo Tenta Questa Questa Questo Attacco Quattro Quattro Cinque pezzi In più Il bianco Prova Non cambiare E qui Bisogna Stare attenti Perché Con donna F2 Più Cosa succede Qua La torre Controlla Questa traversa Il cavallo Controlla Queste case Ora con donna F2 Più Il re Può andare Solo in H3 Se non Vedo male E dopodiché Se non sbaglio Se non sbaglio Cettore H3 Matto Sbaglio 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 Quindi c'è questo Vediamo Come è andata Adesso Il nero Ha giocato Torre Torre In B4 Bianco Cattolo Un pedone C'è sempre Il discorso Di prima Del Matto Della rete Di matto Però Vediamo se il nero L'avvisa Invece il nero No Il nero Anziché dare Matto Difende Vabbè Va bene Va bene Il bianco Cattura Un pedone A questo punto Il nero Gioca questa Gioca questa Ci sono delle Semplificazioni Non c'è più Il matto Però la partita È sempre Stravinta Perché Semplicemente Il nero Ha Un esercito In più Andiamo a vedere Sì Il nero Cattura anche Il pedone A2 Ora Questo pedone In pratica Che è posto In A3 Non potrà Più essere Bloccato Come vedete Il nero Va semplicemente A promozione E qui Il bianco Continua Diciamo A spingere I pedoni Così Diciamo Addirittura Qua prende Anche Una Forchetta Che Continua Ancora L'azione Del nero Sostanzialmente Il bianco Non sa Che fare Qui Per la verità Anche il nero Diciamo Avrebbe Potuto Concludere Ben prima Il match E invece E invece E invece Qua addirittura Questo cavallo È in presa Il bianco Almeno cattura Un pezzo E qui Gli faccio Una spinta Molto Molto Coraggiosa Del bianco Semplicemente Cattura Il pedone Con scacco E come vedete Aveva La forchetta Perché ormai Diciamo La partita È superandata Il bianco Provo Ulteriori Spinte E il nero Diciamo Fa mosse Diciamo Per cercare Di dare Un matto Ma Ancora Non ha chiaro Come fare Vediamo Se riuscirà A dare Matto E ci riesce Ci riesce E quindi Si porta in vantaggio Power TV Vediamo Adesso Come è andata La seconda Partita Tra Power TV E Lucy Lane Vediamo Stavolta Power TV E il bianco Vediamo Come è andata Allora B4 B4 È un'apertura Che si chiama Diciamo Polacca È un Diciamo Una mossa Abbastanza Inusuale Diciamo Apertura Minore E6 Ora Ragazzi Quando si gioca B4 Quindi Si gioca Questo tipo Di partita Ovviamente Ovviamente L'alfiere Non va Come un Pedone In A3 Ma va Naturalmente Nella casa In B2 Quindi abbiamo Questo fianchetto Allora Solitamente Il fianchetto Diciamo Classico E quando Si ha Una spinta In B3 Per esempio Alfiere B2 Questo Diciamo Un fianchetto Del bianco Un po' Più Aggressivo Con la spinta In B4 E solitamente Solitamente L'alfiere Si sviluppa In B2 Per sfruttare Appunto Questa Diagonale Perché L'alfiere È un Dei pezzi Come la torre La donna A lunga Gittata Quindi È un pezzo Che Ha molta Efficacia Se ha Spazio Di azione Quindi È logico Una volta Che si gioca A B4 Sviluppare L'alfiere In B2 Se tu invece Mi giochi Alfiere A3 Diciamo Questo pezzo Che è Molto importante Se viene posto In una casa Come B2 Perché ha spazio Tu lo metti Come se fosse Un pedone E un po' Possiamo dire Ecco Possiamo ribattezzare Un nuovo termine Che questo alfiere Gioca un po' Come Il vecchio ruolo Del calcio Del libero No È un libero Dietro al pedone Vediamo un po' Come è andata Dall'altra parte C'è Un Un B5 Quindi B4 B5 Cavallo In C3 C6 Torre In B1 Adesso C'è Un problema Perché giocare Torre in B1 Cioè la torre in B1 A cosa punta Di certo Non puoi spingere Questo Pedone Adesso E tra l'altro Non hai modo Di spingerlo Perché hai sviluppato Il cavallo In C3 E l'alfiere In A3 Cioè non è che tu In futuro Cioè Puoi spingere subito Questi Cioè non puoi Spingere nulla Prima devi Spostare L'alfiere Il cavallo Il cavallo E poi Quindi questa mossa Adesso Non ha Non ha senso Perché dobbiamo Pensare a sviluppare I pezzi Ma svilupparli Nelle case Adatte Quindi sarebbe Quindi sarebbe stato Più Diciamo Ovvio Più ovvio Cioè Cioè il punto È che lui Doveva tornare In dietro Con l'alfiere Ma che ne so Mettiamo che Giochi in maniera Più classica Fai cavallo F3 E poi inizi Magari a spingere Qualche pedone Qualche pedone Al centro E cerchi di Di sviluppare I pezzi E poi magari Pensi Alla torre Alla torre In questione Comunque Torre in B1 Abbiamo visto Che il problema Altro Altro Alfiere libero Alfiere libero Dietro ai pedoni Dietro alla catena Dei pedoni Anche questo L'alfiere Diciamo Perché Perché mettere Alfiere In A6 Dietro al pedone Mistero Mistero Ricordate L'alfiere Ha bisogno Di spazio Di spazio Comunque Andiamo avanti Poi un'altro Un'altra cosa Molto importante Sarebbe Sarebbe Che in apertura Non è Mai Consigliato Muovere Uno stesso pezzo Per due volte A meno che Non vi sia Una necessità E per necessità Si intende Che un Per esempio Un pezzo Venga attaccato Che ne so Un pezzo Tipo un cavallo Venga attaccato Da un pedone Allora in quel caso Lo devi spostare In questo caso Il cavallo Non aveva Alcun attacco Quindi magari Iniziare a fare Quattro Magari Fare cavallo F3 F3 Insomma una mossa Che sia Di sviluppo Invece No Cavallo E4 Pezzo Mosso per due volte Di D6 Il nero Diciamo Molto Molto Contratto Diciamo E qui Tutta l'idea Di cavallo E4 Non era altro Che Porre La torre In gioco Attraverso Questa Complessa Manovra Quindi abbiamo Visto Torre in B1 Torre in B3 Aspettate Torre in B1 Torre in B3 E certo Per portare Magari La torre Da qualche Altra parte Vediamo Come è andata Cavallo In D7 E poi Torre In C3 Io ho Un gioco Molto Particolare Di Di Power TV Vediamo Adesso Il Nero Cosa Avrà Risposto Perché Con questa Mossa Ovviamente Il bianco Sta semplicemente Attaccando Questo pedone Però Il nero Semplicemente Portando L'alfiere Tra l'altro In una Casa Migliore In questo Caso Che In B7 Potrebbe Tranquillamente Tranquillamente Difendere Il pedone Vediamo Che succede Preferisce Difenderlo Con la Donna In C7 Una mossa Che Che si Può Fare Però Certo Era meglio Riposizionare Il proprio Alfiere A quel Punto D'altronde In questa Casa L'alfiere Non fa Alcunché Non gioca Alcunché Appunto Se non Nel nuovo Ruolo Nel nuovo ruolo Dell'alfiere Libero Questo nuovo ruolo Un po' Un po' Retrone Un nuovo ruolo Scacchistico L'alfiere Libero Allora G G3 Quindi con l'idea Credo Di alfieri In G2 Credo Con l'idea Di sviluppare L'alfiere In fianchetto Vediamo Se Alfiere Alfiere 7 E invece Mi sbagliavo Mi sbagliavo Perché Perché appunto L'alfiere Viene posizionato In H3 D'altronde Fa il palio Con l'alfiere In A3 Però io Mi chiedo Adesso Se hai fatto B4 E hai sviluppato L'alfiere A3 Perché non hai giocato A questo punto G4 Così che era Cioè Diciamo un'idea Che mi è venuta Molto Ovviamente Mi Ovviamente La mossa Migliore Migliore Per questo alfiere Di posizionarsi In G2 Poi altra Mossa caratteristica Cavallo Cavallo In H6 Ora Vi ricordo Che il cavallo Gioca meglio Al centro Che in questo caso La naturale Casa di sviluppo È questa Un cavallo A lato Diciamo Non gioca bene Ora finalmente Cavallo F3 Vediamo il nero Cosa gioca Si arocca corto Vediamo adesso Il bianco E il bianco Gioca Senza Aroccarsi Quindi mantiene Mantiene il proprio Re al centro Mantiene il proprio Re al centro E gioca Questa mossa Torre In G1 Probabilmente Con l'idea Con l'idea di spingere Questo pedone Solo che il problema È che Una volta che hai L'alfiere In H3 Il cavallo In F3 E puoi spingere Un solo pedone Ora in queste Situazioni È bene Avere i pedoni Liberi E quindi Spingere H4 G4 Ma in questo caso Il bianco Non lo può fare Perché appunto I pedoni Sono struiti Sostanzialmente Dai suoi stessi pezzi Altra mossa Torre In B8 Al solito La torre in B8 Che ruolo può avere? Certo Al limite Puoi spingere qua Però devi stare attento Perché c'è la donna Sulla stessa linea Della torre Quindi è una situazione In realtà Un po' Un po' complessa Diciamo che torre B8 Non convince D4 D4 Con che idea? Boh Vediamo un po' Cosa risponderà Il nero Il nero G6 Si diciamo Che sono mosse Diciamo Che non Che non Stanno Minacciando nulla Vediamo un po' Cosa andranno a fare Nero Ora gioca Il bianco Ora gioca in G4 E il nero Stavolta Spinge Spinge in D5 Ora spinge in D5 Lasciando questo pedone A retrato Anche se effettivamente E' un pedone Posto su una linea Chiusa Come vedete C'è anche il pedone Qua C'è la torre Può solo attaccare La torre Al momento Quindi 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 va bene Cavallo In C5 Cavallo che sta attaccando Attenzione Questo alfiere Che non è protetto Il nero Pensa di catturare Il cavallo Alfiere per C5 D per C Vediamo cosa gioca Il nero Il nero qua gioca Fa un blunder Fa un blunder Perché Finora Diciamo I due giocatori Non hanno giocato Bene Come potete Ben vedere Però Però c'era un certo Equilibrio Un certo Un certo Equilibrio Adesso Adesso Invece Con questa mossa Dal nero Questo Equilibrio Diciamo Viene meno Perché semplicemente Il bianco cattura Un bel pezzo in più E ora Vediamo un po' Come la giocano Donna In D3 Torre B Be8 E qui il bianco Già questa mossa Torre in G5 Non sappiamo bene A che pro Perché F6 La torre torna Torna indietro Con G3 E si Magari adesso Portare il cavallo indietro Non è Non è Diciamo Una buona idea Qui sostanzialmente Il nero Già Stai perdendo Cosa può fare Magari Magari Mettere il cavallo In E5 Attacca La donna Probabilmente Forzando Forzando il cambio E vai Se non altro A sistemarti Con i pedoni Al centro Certo stai perdendo Però cerchi di Tenere Con questa struttura Poi con il pedone Al centro Vediamo Invece Come è andata Vediamo Don Ora Diciamo Mette pressione Il nero Con Tor E donna Su re Piazzato In mezzo Per ora Il re E difesa La posizione Del re E difesa Sia dalla donna Che dal cavallo Quindi per ora Non ci sono problemi E qui Il bianco Gioca Questa spinta Non è Diciamo Un gran che Comunque Il cavallo Si ripiazza In D7 Per il nero E qui c'è Torre Torre 3 Vediamo un po' Cosa ha giocato Il nero Dopo Torre 3 O incredibile Poteva fare Questa mossa prima La fa adesso Quando il cavallo È in bella presa Prima E però E però Il bianco Non vede Non vede O non vuole prendere Questo Probabilmente Non lo sapremo mai E porta la donna In D1 Vediamo un po' Come prosegue All'alfiere Diciamo Torna in qualche modo In gioco Piazzandosi Nella casa Originale In C8 Però Così facendo Così facendo Non si Cattura Un pedone Il bianco Che effettivamente Da un po' Catturare O può catturare Lo può catturare Perché È vero Che c'è il cavallo Però Ricordiamoci Questo cavallo È inchiodato Quindi Sostanzialmente Qui Il nero Probabilmente Non ha visto Questo Semplicemente Doveva A questo punto Giocare Fiere In B7 Per difendere Questo pedone Semplicemente Il bianco Poteva catturare Quindi Vediamo Come è andata Si sposta La donna Il Bianco Torna Indietro Torna Indietro E qui Quindi Salva il cavallo In qualche modo C'è questa spinta In C6 Beh qui Semplicemente Il nero Potrebbe prendere Un pedone Almeno Diciamo Cattura Un pedone E sostanzialmente Poi attacca Allo stesso tempo No Attaccano il cavallo Perché c'è la donna Però Mette pressione Sulla torre Perché una volta Che prende il pedone Il bianco Ha la torre Attaccata Per due volte Quindi Vediamo Come è andata Invece Gioca Torre Indiotto E qui C'è questa Mossa di cavallo Dovrebbe prendere Di alfiere E no Ma è incredibile Deve prendere Alfiere Qua gli sta facendo Attacca Donna Attaccatore Attaccatore Cioè gli sta facendo Un triplo Un triplo attacco Poteva il nero Poteva l'usilene Semplicemente Mangiare il cavallo Non fa male Mangiare il cavallo Eh lo so Magari È vegana E purtroppo Niente È vegana Magari Non può Mangiarlo E qui Il bianco Bianco Addirittura Spinge Spinge Vediamo Come è andata Il bianco Con questa spinta Sta attaccando Anche la torre Quindi stiamo attenti Torre Che attacca Quindi abbiamo Questa Sì Questa situazione Qua E tra l'altro La donna Qui È qui Piazzata È piazzata Diciamo Male Male E gioca Questa mossa Il bianco Cattura La torre Che viene Ripresa Di donna Giustamente Vediamo Come va La partita Torre In c5 Non so Bene Il perché Probabilmente Con l'idea Di Attaccare Un pedone Non so Vediamo E vediamo La torre Viene Messa indietro In d7 Eh sì Infatti Ha preso Il pedone Vediamo Come continua Spinta H5 Ora Sta attaccando Con torre In d3 Questo pedone Diciamo Più volte Si sposta Torre B Per D5 E ora Bisogna stare Attenti Perché qui La partita È super andata Solo un miracolo Può salvare Due c lane Qui c'è Un'altra Spinta Magari Doveva togliersi Doveva giocare Re Re H7 E qui Giustamente Il bianco Fa Il suo gioco Il nero Continua In una disperata Spinta Dei pedoni Il bianco Cattura Il nero Ricattura E poi E poi Qui anziché Prendere La donna Dice Prende L'alfiere E poi Successivamente Gioca Questa Va bene Lo stesso Qui era meglio Però Catturare Con il pedone Sai Vai subito A donna Poi C'hai Anche Questa Alfiera Che Si è Scordato Qua Diciamo A fare Il libero E Ora Vediamo Come Prosegue Se riuscirà A dare Matto In poche Mosse Libera L'alfiere Quindi Che ritorna In gioco Attacca La torre E semplicemente Il nero Spinge Ora Minacciando Di andare A promozione Il bianco Ha paura E E Toglie L'alfiere Lo mette Diciamo A protezione Della promozione Avversaria Però L'Ulsy lane Promove ugualmente Alfiere Per poi Spinge Pezzi La torre Fuori Qui c'è Matto Sostanzialmente In poche Mosse C'è Matto In poche Mosse Però Provvediamo Vediamo Se riesce Ah qui C'è Per esempio Matto Subito Però Non visto Vediamo Se lo vede Adesso E lo vede Ok Lo vede E si aggiudica il match Si aggiudica il match Quindi Power tv Power tv Sconfigge Lucy lane Per noi Per questo Interessante Sfida è tutto Vi do appuntamento Alle prossime Partite del Pogchamps Sia girone di Consolazione Che ovviamente Girone di Campionato Ciao E alla prossima Pogchamps